Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Noi abbiamo letto un pochettino della tua storia, quindi sappiamo noi chi sei, ma chi ci sta ascoltando, se dovessi descrivere Lara Gosta, chi è Lara Gosta e perché Lara Gosta? Allora, il nome Lara Gosta nasce praticamente per caso quando all'età di 14 anni incontrai un ragazzo che poi è diventato un mio amico e mi presentai, piacere Lara, lui rispose così secco, Gosta? E da lì è diventato il mio soprannome e così ho deciso di usarlo come nome d'arte, perché comunque è un po' ironico e io cerco sempre comunque di mettere anche una parte ironica nelle mie canzoni. E a questo punto come nasce questo primo brano da solista, da cosa trae ispirazioni? Sì, io generalmente trago ispirazione da cose che mi capitano e non devono essere per forza degli eventi importanti, ma possono essere anche delle piccole cose, come ad esempio questo pezzo, perché nasce praticamente dall'incontro con un ragazzo con cui mi sono frequentata per pochissimo tempo, che si chiama appunto Gian Maria, e lui mi disse non ti voglio creare altri problemi. E allora, siccome per me i problemi sono importanti, perché per me è più divertente se ci sono dei problemi da risolvere, e proprio mi annoio senza problemi, perché poi cerco di crearmeli io, se non li trovo in giro. E quindi ho scritto questa canzone, prendendo spunto dalla personalità di questo ragazzo che è appunto opposta alla mia. Abbiamo visto un video che nasce un po' particolare, con te, protagonista. Ci descrivi come nasce questa idea di questo video? E poi come se... alla fine l'idea di partenza, se poi si è stata realizzata, oppure nel svolgimento è stata anche modificata? Allora, quest'idea in realtà ci è venuta a me e al mio produttore Andrea May, con il quale mi trovo molto bene e abbiamo la stessa proprio visione artistica. E quindi in realtà è nata scherzando, cioè, dai, andiamo lì con la pala, sotterriamo le persone, no? In realtà il significato è... cioè, inizia con questo manichino che viene sotterrato, no? E in realtà non è che viene sotterrato Gian Maria, che non è stato maltrattato nessuno, ma viene sotterrata appunto la noia, perché il manichino rappresenta proprio la noia. E quindi, niente, ecco, è stato divertente fare il video comunque. E l'espressione e l'immagine è rappresentata appena nella copertina del singolo, sicuramente. Sì. Quindi un'immagine rappresentativa che hai rappresentato già nella stessa copertina, quindi, ovviamente. A questo punto, quando nasce la passione di fare musica? Da appena nata, praticamente. Perché già proprio i primi anni di vita cantavo, cioè, si vedeva proprio che ero appassionata comunque di musica. E infatti inizio a studiare pianoforte a quattro anni e a dieci anni canto lirico e poi cambio, inizio canto moderno. Poi mi sono avvicinata al jazz, al soul, ma anche al rock. E fino ad arrivare adesso alla composizione e alla scrittura di testi, diciamo, con un genere che è pop, ma con influenze soul. E' più facile, quando scrivi, è più facile quando te togliere le parole oppure mettere le parole per creare un testo che abbia comunque anche un senso logico? Allora, questo, no, forse togliere, perché è vero, a volte succede, per esempio a questa canzone, in realtà, aveva il ritornello che era il doppio più lungo. Poi l'abbiamo tolto, abbiamo tolto delle parole, sì. E l'emozione che si prova a suonare dal vivo, visto che comunque vada il palco, l'hai già vissuto, sicuramente. Qual è l'emozione che si prova avendo il riscontro che davanti a te, cioè del pubblico, che inizialmente è in silenzio, ma poi si emoziona, canta, balla. Sì, allora, cantare al vivo è sempre un'emozione forte e per me è sempre diversa, perché in base alla situazione, ho sempre, in base al pubblico, secondo me, che mi trasmette qualcosa, comunque, riesco a percepire sempre cose diverse, comunque. Poi dipende anche da come sto io, probabilmente, però è bellissimo, è bellissimo. Hai fatto, hai partecipato a diverse trasmissioni, anche a X Factor, e quindi che cosa ti ha lasciato queste manifestazioni a livello artistico, ma soprattutto anche a livello umano, che ti hanno lasciato e che cosa ti danno, ti posso dare in futuro? L'esperienza di X Factor è stata molto particolare, perché ho passato i casting e sono arrivata all'audition nel 2012, quindi avevo 17 anni, e quindi è stata un'esperienza molto forte. Io ero piccola, quindi inizialmente non mi rendevo tanto conto, poi vieni catapultata in questa realtà completamente fantastica, no? E quindi poi è stato anche, cioè, difficile in un primo momento, insomma, essere mandata via, no? E poi in realtà, cioè, io sono contenta di non essere stata presa, perché non avevo nessun progetto dietro, e quindi poi, cioè, come sarebbe andata? Per me è stata una fortuna, cioè, per me è stata una fortuna, essere stata presa quella volta. Ma secondo te questi talent, che ho questa manifestazione, servono per la musica soprattutto ai giovani, oppure in realtà sono un po' limitativi per i stessi giovani? Allora, secondo me, cioè, possono servire, cioè, comunque sono degli strumenti validi, il problema è proprio questo, cioè, a volte magari ci vai da piccola, no? Da ragazzino, non ti rendi bene conto, e magari, cioè, può diventare un problema serio, perché poi proprio entrare in trasmissione, può generare anche un trauma, perché, cioè, io sono molto sensibile, e a quell'età, cioè, per me sarebbe stato assolutamente deleterio, credo questo. Però magari invece oggi, con un progetto dietro, sarebbe diverso. Quindi non è il talent in sé che è giusto o sbagliato, è la situazione con cui vai, con cui parti. E hai vinto a diversi premi, abbiamo visto anche. Sì, ho avuto, ho passato diversi concorsi, ho avuto le mie soddisfazioni comunque. E c'è qualche artista a cui ti sei ispirato, comunque ti ha dato, ti ha fatto crescere anche musicalmente? Allora, io ho i miei quattro artisti fondamentali, non è, cioè, non penso di ispirarmi, perché comunque sono generi molto diversi. Comunque sono Peter Gabriel, Patti Smith, JJ Kale e Stili Dan. Eh, hai detto nomi semplici. Sono proprio i miei artisti preferiti fin da ragazzina, diciamo. E a questo punto, intanto, progetti futuri e soprattutto eventi live? Allora, domani sera sono a Tolentino per una serata all'Osteria San Nicola. E poi avrò altre date verso agosto, ma ancora sono da definire. E per il futuro sicuramente uscirà un altro singolo, ancora non sappiamo bene quando, però uscirà. E poi vediamo, insomma, se far uscire altri singoli oppure un EP. E invece l'emozione che ho provato quando effettivamente hai detto, ecco il mio primo singolo, l'hai fatto ascoltare anche agli altri in modalità. Qual è stata la sensazione che hai visto riflessa nei loro volti quando hanno ascoltato la canzone? La tua sensazione? Ma i primi due giorni non ho capito bene. Stavo un po' in un altro pianeta, quindi non ho capito molto. Poi i giorni successivi ho iniziato a fare interviste, cose così, allora ho cominciato a vedere che salivano le visualizzazioni. Allora lì mi sono resa conto. Però i primi due giorni proprio non avevo realizzato. Invece la prima domanda che ti hanno fatto, che sicuramente hai escluse le nostre, che ti hanno detto è che effettivamente la risposta non è che non senso, però ti ha lasciato sorpresa o in positivo o comunque non ti ha soddisfatto. O ti ha soddisfatto, qual è secondo te, finora? Le domande che ti hanno posto? Che ti hanno posto? Ok. Non lo so. Questa è difficile, è una domanda difficile però mai fatta. In questa forse. Abbiamo trovato una domanda difficile da mettere al posto. Quindi a questo punto noi ti ringraziamo per l'intervista. Grazie a te. E soprattutto ci vedremoci ad ascoltarci sotto il palco per vederti suonare dal vivo perché sicuramente sarà bello. A questo punto sogni del cassetto? Io spero che la mia musica arrivi a più persone possibili. E spero di poter fare un EP prima o poi. E ci puoi dire gli indirizzi dove poterti raggiungere? Ricordiamoli? Sì. Basta cercare Lara Costa Music su YouTube, su Instagram e su Facebook. Lara Costa tutto attaccato, eh? Lara Costa Music. E non con l'accento. No. E vi saluto tutti, vi ringrazio tantissimo per questa opportunità e ascoltate Lara Costa, Gian Maria Funk su YouTube. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.